In via Calafati a Livorno i cantieri dell'edificio della provincia destinato ad ospitare aule didattiche e uffici amministrativi compie circa un anno dalla consegna ufficiale dei lavori. Occuparsene è oggi la ditta costruire di Lucca che formalmente dovrà impiegare un altro anno e mezzo prima di restituire l'immobile al comitente pubblico della sua piena funzionalità. Un lavoro certamente completo alimentato dai fondi del PNRL che in prospettiva mira a garantire alla futura utenza scolastica le necessarie condizioni di confort, fruibilità e sicurezza. L'edificio che è sparito dai radar locali dopo le contestazioni di questa estate sulle carenze croniche di spazi per le scuole medie e superiori è come detto nella disponibilità della provincia di Livorno e verrà assegnato a lavori terminati. Il progetto è stato concepito ed approvato a suo tempo tenendo conto della norma antisismica e degli interventi di riqualificazione energetica degli infissi come vogliono oggi le feroci normative europee sulla ristrutturazione del patrimonio immobiliare in gestione pubblica. A tal fine va detto che la progettazione ha previsto l'utilizzo di materiali resistenti ai sali malini in modo tale da garantire l'elevata durabilità all'opera. Come sempre accade in questi casi un conto è il progetto, un altro conto è l'effettivo approvvigionamento dei materiali necessari al completamento delle opere che non è quasi mai sincrono con lo stato progettato dei lavori. Via Calafati è anche un asse importante del cosiddetto arsenale, e cioè uno dei tre schemi urbanistici di Porta Mare 2, gli altri sono Lexlips e Molo Medicio. Proprio di recente il Comune di Livorno ha accolto una osservazione di IGD immobiliare che permetterà di realizzare nell'area al di qua del Ponte Gerevole, probabilmente accanto allo stesso edificio di Via Calafati, non un centro direzionale servizi come era negli auspici dello stesso Comune, ma almeno 40 appartamenti di pregio che affaceranno sullo splendido specchio d'acqua di Darsena Nuova, utilizzando i 4.700 m2 di superficie edificabile messi nuovamente a disposizione del soggetto attuatore per soddisfare la grande richiesta di case che emergerà dagli utenti del nuovo porto turistico.